Non vi sono attualmente richieste di autorizzazione del Leni in evase da parte dell'amministrazione regionale relative ai lavori da effettuare dentro la raffineria di Gela. A parlare il presidente della regione Rosario Crocetta. Le uniche richieste in atto pendenti sono quelle relative alla copertura delle vasche che sarà autorizzata entro lunedì dopo che Leni avrà completato la richiesta di integrazione di documenti prevista per oggi e quella della bonifica ISAF per la quale la regione è pronta a dare il parere da mesi ma per la quale sono emersi alcuni rilievi della prefettura che affiderebbero tale competenza all'ambiente. Nel colloquio avuto con il prefetto il medesimo assicura che è in cerca di una soluzione. Per quel che riguarda il parere della regione chiarisce il governatore nel giorno stesso in cui la competenza sarà chiara la regione è pronta a emetterlo. Il governo, continua il presidente, ha sollecitato l'apertura del tavolo tecnico che il ministro Guidi ha convocato per il 29 settembre. Il presidente vuole procedere rapidamente all'attuazione del protocollo già sottoscritto per il rapido avvio dei lavori. Per fare ciò è necessario che non ci siano ostacoli da parte di nessuno ai nuovi insediamenti produttivi. In conformità al rispetto dell'accordo con Leni, la regione, aggiunge Crocetta, non ha aderito alla proposta di indizione del referendum contro le trivellazioni, promosso da alcune forze politiche che avrebbero compromesso gli investimenti promessi per Gela. Stiamo lavorando, abbiamo già chiesto una convocazione urgente al Ministero del Lavoro per gli strumenti di sostegno al reddito necessario, sostenendo che il trattamento verso i lavoratori con crude Crocetta debba essere identico sia per i lavoratori del diretto Eni che per l'indotto.